cari amiche e cari amici di outcast benvenuti ad un nuovo episodio di sala giochi io sono stefano calzati e oggi vi parlerò di un gioco a cui tengo molto che è deadly premonition 2 a blessing in disguise nuovo titolo di idetaka sueri sue hero disponibile in esclusiva su nintendo switch e io da grandissimo feticista del primo capitolo avevo altissime aspettative su questo sequel del tutto inatteso tutto sommato perché è stato annunciato in un direct così a fulmine a ciel sereno questo seguito di questo cult come se ne vedono ben pochi nel panorama videoludico che è un panorama di che di cult non è che ne sforna tantissimi c'è talmente evoluzione tra un anno e l'altro così che è una cosa rara è una cosa simpatica questa cosa soprattutto questa cosa di rivalutare un gioco brutto di solito un gioco brutto perché effettivamente è un gioco che rasenta la sufficienza se si analizzano i suoi elementi ludici è stato rivalutato in nome dell'atmosfera della scrittura di questo revival di twin peaks prima che twin peaks ritornasse effettivamente davvero e quindi insomma oltretutto c'è scritto anche un articolo su su queste pagine sulle pagine di outcast se volete recuperarlo per celebrare i dieci anni dall'uscita del primo capitolo ma adesso parliamo di questo seguito a blessing in disguise torna francis york morgan uno dei personaggi più fighi positivi interessanti intelligenti e sagaci che si siano mai visti nel videogioco torna con questa avventura che è contemporaneamente un prequel e un sequel perché dovremmo indagare sulla morte di liz clarkson rampolla della della famiglia clarkson che diciamo tra affari leciti e illeciti domina la cittadina di lecarré che nella provincia di new orleans in provincia di new orleans e contemporaneamente ci troveremo anche nei panni di alia davis che è un'altra gente dell'fbi che sta indagando proprio su francis york morgan in seguito a quello che successe prima alle carree e poi a green veil che ricordiamo la cittadina del primo capitolo quindi molto interessante questo questo doppio piano temporale molto fighe le sequenze che sono prettamente narrativa ambientate nel presente 2019 mentre la storia di lecarré è datata 2005 poco prima qualche settimana prima dell'uragano katrina cosa che sarà molto importante nella nella trama e come sempre la scrittura di sueri è frizzante è un inno al al bizzarro un inno al nonsense questo thriller paranormale che riesce a mischiare incesti droga criminalità organizzata pistole scacciacani anziane fissate col bullying caffè chi più ne ha più ne metta donne segate in più parti omicidi efferati e un'ironia assolutamente piacevolissima tagliente veramente riesce ad essere un gioco estremamente simpatico e divertente nei momenti più ilari come anche come estremamente horror e disturbante in altri il problema è arriva quando si gioca arriva col gameplay che se nel primo capitolo era diciamo frutto i suoi problemi erano frutto di uno sviluppo travagliato iniziato su su playstation 2 proseguito su una generazione successiva già diciamo che non era proprio un titolo ad altissimo budget dal principio è venuto fuori un mezzo pasticcio che comunque stava in piedi grazie a determinate idee alle routine di questi personaggi all'atmosfera ecco quello che manca alle carrè è proprio l'atmosfera che è semplicemente sembra una cittadina immersa in una in una perenne come posso dire una perenne atmosfera post prandiale della domenica è un po addormentata c'è questa atmosfera proprio di di paese di di provincia estremamente disabitata estremamente con poche attrazioni e non non aiuta non aiuta l'atmosfera perché se da una parte tutte le cutscene tutta la parte narrativa è estremamente tirata anche un bel ritmo nei dialoghi nelle negli avvenimenti l'open world è stato ridotto in questo caso a andare dal punto a al punto b fare delle fetch quest andare per dungeon assolutamente riciclati l'uno all'altro ma roba che sono veramente identiche le mappe cioè una cosa che io capisco l'exploitation il fatto di non 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 pretendere di avere un valore ludico ma puntare tutto sulla narrazione ma allora fallo non c'è bisogno di aggiungere questi elementi ludici estremamente ridondanti poveri con controlli imprecisi non è divertente non è inquietante non c'è niente la cosa più bella del gameplay è andare in giro per la cittadina in skateboard questo è divertente e i vari minigiochi che sono il bowling il rimpiattino lanciare i sassi nel fiume farli rimbalzare questa cosa bizzarra o se no fare i giri sul l'idro l'idroscivolante lo chiamano quelle barche a chiglia piatta con con l'elicona enorme dietro che si trova in giro per i bayou della louisiana in cui si dovrà poi si dovrà sparare ai vari bersagli in giro per il bayou e dei percorsi in cui fare trick di skate quindi un gameplay che se all'inizio risulta anche sopportabile tutto sommato alla lunga dopo che vedi che non ci sono idee non c'è una un'evoluzione non c'è niente e vai avanti per inerzia solo per seguire la trama vuol dire che insomma non è nato proprio benissimo anche perché su eri anche dimostrato di saperlo fare del gameplay virtuoso basta pensare a the missing d4 ma anche al primo dead il primo nation tutto sommato e quindi un po mi ha mi ha un po mi ha un po sorpreso in negativo questa questa mancanza proprio di più che di idee di una voglia di evolvere il suo il suo concetto per questo io non capisco se su eri ci sia o ci faccia perché mi sembra veramente troppo brutto formalmente brutto per essere vero e non parlo della tecnica perché lì vabbè se se non c'è budget è chiaro che il frame rate cioè non stai lì a mettere a postissimo il frame rate che gira in maniera abbastanza imbarazzante soprattutto quando si si fanno le nostre scorribande nella città delle texture assolutamente in bassa definizione ma quello non sarebbe un problema se ci fosse qualcosa che ludicamente ti tiene attaccato al gioco invece tutto si poggia e loro lo reggono bene sui personaggi sulle interpretazioni il livello del del doppiaggio è fantastico tutta la storia è fighissima rituali voodoo robe beghe familiari da soppopera francis che parla con zach che c'è sempre quest'atmosfera un po surreale lui che parla da solo che poi da solo non è vero perché come saprete dal primo capitolo ha questa doppia personalità e insomma si fa giocare non si vede l'ora di vedere la prossima la prossima idea del copione però non basta non si deve si deve volere di più da un personaggio come su eri che sa come si fa qualcosa di originale qualcosa di di gustoso anche a livello ludico ed è un po è un po un dispiacere tutto sommato io non mi sento assolutamente di di bocciarlo soprattutto per chi ha amato il primo perché è comunque oro è comunque uno dei thriller più belli che si siano visti in ambito videoludico negli ultimi anni ed è proprio cioè si può godere di una scrittura molto divertente se si se non si hanno assolutamente pretese ma proprio zero lato gameplay e quindi insomma male ma non malissimo verrebbe da dire resta mi resta sempre quando quando parlo di deadly premonition e quindi quando parlo anche di questo mi rimane sempre quel dubbio del cosa sarebbe successo se se sueri avesse il budget di un ueda di un di un su da 51 dei dei bei tempi una software house dietro un produttore in gamba un produttore che ci creda fortemente nelle sue creazioni e sarebbe sarebbe veramente qualcosa di di eccezionale un deadly premonition con i valori produttivi di un l.a noir cioè proprio è una roba una roba che mi manderebbe fuori di testa da qui all'eternità cioè potrei anche smettere di giocare probabilmente se venisse fuori una roba del genere però un po un po un po ci ho perso le speranze perché evidentemente poi a sueri piace la sua nicchia e anche con questo capitolo dimostra di non fare molto per per cercare di uscire nonostante la cassa di risonanza di nintendo detto questo penso di aver detto tutto grazie per avermi ascoltato se siete fan di sueri giocateci magari non a 59 euro 99 non mi se non mi sento di volervi far spendere soldi questi soldi a tutti i costi aspettate un po magari però giocateci e godetevelo grazie per avermi ascoltato alla prossima ciao ciao ciao